Ciao ragazzi, salvevete e benvenuti in questo nuovo video E mattina sono 9 e un quarto Oggi è un giorno importante perché sono andato a vedere gli studios della Warner Bros e dove hanno girato i film di Harry Potter che stanno qui fuori Londra E' solo che fa un freddo cane Il biglietto ingresso ce l'ho a mezzogiorno e mezza Quindi dobbiamo comprare quindi il pranzo, i panini e non so che comprare Ma come se li fanno i panini qua? Se qua si fanno proprio i panini Fa un freddo cane Ok, arrivare alla stazione di Houston Houston, stiamo arrivando Ok, binario 10 per Watford Junction Tutto con la Oyster Card Houston, stiamo partendo Buon bollino studio studio London Andiamo il biglietto per entrare Puoi dire il biglietto, le macchinette, costano 35 pound Ok ci siamo, c'è un sole fantastico, fa sempre freddo E come ne so, c'è io c'è il tour a mezzogiorno e mezza Sono arrivato un'ora e mezza prima Sto in fila Questa è la sala principale Sono tutte le foto, dove si mangia, c'è la macchina La macchina di Ron E probabilmente non capisco Stiamo entrando, però non si sa di dove se va Cioè la gente entra E sparisce Tutto chiuso, non c'è Lo stanzino originale di Harry Potter Che emozione Dove è Hogwarts, dai su Dai su, queste minchiate Guarda lì a dormire, c'è pure il contatore La famosa Sara Vanno a girare tutte le scene Questa è la sala del Grifondoro Maledetta computer grafica Con la venta computer grafica I scenografie film ci stanno più Che, che, che Fanno tutti i pezzetti Li montano E non te pu... Non te vede un tour Cioè come gli studios Quelli di Riturna al futuro Che hanno preso fuoco più che altro Tutti i pezzettini Fatti piccoli Si sono costruite al computer Le scene Sfondo verde Una giacca La cosa bella è che proprio qui giravano le scene E una parte delle scene Perché tante le giravano all'aperto In altri posti Qui le scene Quei diciamo un po' al chiuso Le facevano qui Le facevano Non mi ricordo una cosa Come, come, come fanno Non mi ricordo La sala di Albus Silente Mi siete mai chiesti Che c'è sta dentro Sti armati Che ci stanno qui Nell'ambiente Mi chiesto Tutta roba strana Oggetti Tutto Più che altro Mappamombi Quasi sulla terra Si è messa dentro La stanza De Leonardo da Vinci O De Galileo Caro Albus Ci vediamo Alla prossima Che c'è qui Guardi un Leviosa Oggi Vi insegno Come fare una pozione Con le puzzette Pensate Erano qui Che facevano lezione Direi una girata Questa pozione Sempre di sera Dovamo il selfie Con il vado zero Ok Siamo pronti Per un nuovo viaggio Andiamo Questo è il treno di sogni Che fegata E si sale anche No Ho scoperto Una cosa assurda Non lo sapevo Hagrid era finto Era una faccia finta Era No Quindi non era un attore Un attore vero È stato È stato indossato Dalle controfigure Bello Il diavolo Andiamo a comprare La pacchetta magica Eccola Ci siamo Questo monte Porta al castello Andiamo È fantastico È fantastico Sono commosso È immenso Ci fanno girare Tutto intorno Bellissimo Che praticamente Hanno usato questo Il castello È in scala L'hanno costruito In un mese L'hanno costruito Cioè È un Refinitore Incredibile Con questa musichetta Si illumina anche C'è le lucette Can we stay close to mummy Please John 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 Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti